Ciao, io mi chiamo Riccardo e questo è il mio nuovo libro Elogio dell'idiozia. Ora, il mio editore mi ha chiesto di parlarne in un video di poco più di un minuto e io gliel'ho detto che è impossibile, che non ce l'avrei fatta, che è una cosa veramente idiota e lui mi ha risposto che è proprio per quello che devo farlo. Così eccomi qua, perché dovresti leggere l'elogio dell'idiozia? Allora, in primo luogo si tratta di un libro scritto in un italiano discretamente corretto e di questi tempi è una cosa da non sottovalutare. In secondo luogo è l'ennesimo libro di uno youtuber, ma stavolta non ci troverai immagini o figure. E poi in questo libro dico delle cose davvero davvero idiote, per esempio difendo i terrapiattisti. E no, mica per scherzo, sul serio. E poi è un libro che può essere letto da tutti anche se è un testo di filosofia, anche da chi non ha mai letto Kant, Hegel o Fabio Volo. Infine, è un libro che parla di me e per questo parla di te. Parla di me perché un libro di filosofia si scrive sempre con un unico scopo, mettere ordine ai propri pensieri. Ed è per questo che parla di te, perché leggendolo forse potresti mettere ordine ai tuoi di pensieri. Oppure no. E allora leggendolo ti sentirai idiota, almeno quanto io mi sono sentito idiota nello scriverlo. E ti posso assicurare che è una cosa che mi ha fatto davvero, davvero tanto bene. E magari potrebbe fare del bene anche a te. Quindi, elogio dell'idiozia per Edizioni Tlon, lo trovate su Amazon, IBS, in tutte le librerie d'Italia. E se vorrete sentirvi idioti facendovi un po' di bene, questa è l'occasione giusta. Grazie. Grazie. Grazie.